Il Vincenzo Magliocco è stato indicato quale scalo alternato a quello di Catania nei casi di necessità e nel dettaglio durante le emergenze legate alla presenza di cenere vulcanica proveniente dell'Etna. E quanto emerso durante il tavolo romano di lunedì svoltosi presso la sede dell'Enac al fine di individuare le linee guida da adottare per definire una procedura finalizzata a ottimizzare ulteriormente le comunicazioni agli utenti nei casi di limitazione dei voli e chiusure degli scali della Sicilia orientale durante le emergenze legate alla presenza di cenere vulcanica proveniente dall'Etna. L'esigenza è stata quella di individuare criteri specifici in materia, cosa che farà l'Enac con la partecipazione dei soggetti interessati, vale a dire società di gestione ma anche compagnie aeree. Durante la riunione il direttore centrale del coordinamento aeroporti dell'Enac, l'ingegnere Daniele Carrabba, ha accolto l'esortazione della SAC in merito all'esigenza di procedura d'ocche in caso di emissione di cenere vulcanica nell'atmosfera da parte dell'Etna. Risultato che soddisfa oltre modo i vertici della SAC. Per Gaetano Mancini, amministratore delegato della SAC, infatti il successo incassato a Roma è visto come un primo passo per poter utilizzare lo scalo a casmeneo, quale alternato di quello di Catania, in caso di necessità. Ovviamente nel rispetto dei limiti operativi dell'aerostruttura casmenea. La SAC, dice Mancini, sta perseguendo con tenacia dell'obiettivo, soprattutto nell'ottica di garantire ai viaggiatori diretti a Catania il minor disagio possibile in caso di emergenza a Fontana Rossa. Superfluo dire come l'eventuale utilizzo di Comiso con l'alternato di Catania, per quanti limitato a quattro movimenti l'ora, non potrà non contribuire alla crescita del Magliocco, un gioiello il cui sviluppo sta molto a cuore al management SAC.